CRISI DI PANICO Aprì la finestra e rimase lì vicino. Faceva sforzi convulsi per respirare. Un confratello lo raggiunse e Don Mario cominciò a respirare un po' meglio. Si appoggiò allo stipite della finestra, mortalmente pallido. Allentò il colletto del clergyman e convenne che le sue crisi di panico erano diventate molto frequenti. Una voce agitata lo fece sobbalzare. Qualcuno gli aveva parlato. Monsignor Ernesto, il suo superiore, attraversò la stanza a grandi passi e si sedette sull'unica poltrona. Si rivolse a Don Mario con un'espressione preoccupata. Non li negligere grazie a maque est in te, que data est tibi, cum imposizione manum presbiteri. Non trascurare la grazia sacerdotale che hai ricevuto con l'imposizione delle mani. Queste sono crisi di panico, aggiunse. Lo so, ammise Don Mario stancamente. Negli ultimi tempi si sono fatte più frequenti. Commento. Le crisi di panico sono periodi evolutivi. Le medicine contro le crisi di panico sono gli ordini chimici che contrastano gli ordini chimici che giungono al cervello fisico dai piani superiori.